Eccoci, stavamo scambiando quattro chiacchiere, come dire, fuori diretta con Ludovico delle Vergini, possiamo dire l'anima di questo festival che si svolge a pochi chilometri da San Giovanni Rotondo, Chiuffa Notte e Chiuffa Forte. Buongiorno Ludovico e benvenuto. Buongiorno a te, buongiorno a voi. Allora, per chi abita a San Giovanni Rotondo e a San Marco in Lamis non c'è neanche bisogno di fare, come dire, una traduzione di Chiuffa Notte e Chiuffa Forte, però magari la signora Maria ci segue da Cuneo e dice che significa, qual è il significato, innanzitutto traduciamo che significa e poi qual è il significato di questa frase, di questo detto. Certo, arrivata alla quindicesima edizione, 17 anni fa, perché due edizioni le abbiamo saltate a causa pandemia, mentre immaginavamo un festival che non fosse la solita Notte Bianca. Notte Bianca si caratterizza con, non so, negozi aperti, musei e via dicendo. Il nostro vuole essere un festival che parte dalla mattina ben presto alle 7 con delle escursioni fino a travolgere tutta la cittadinanza e tutti gli orari del giorno per arrivare alla notte dove è molto più potente l'energia. Ecco, partire slow, piano piano, per arrivare poi all'esplosione di colori di energia con la musica in area concerto. Quindi Chiuffa Notte, più diventa sera, più va avanti la giornata, più deve fare forte il calore del festival. Ah, bellissimo, bellissimo questo significato. Allora, appuntamento domani? Domani. Quindi 14 agosto. Domani, 14 agosto. Ma quella, che cosa c'è in programma? E poi spiegheremo anche, è un simbolo molto significativo sulla tua maglietta, spiegheremo anche qual è il tema che avete scelto per questa edizione. Sì, il programma è ricchissimo. Dicevamo, dalla mattina alle 7 si parte già con l'escursione nel centro storico. Lo prendi un caffè però domani mattina? Noi lo prendiamo sì prima e facciamo. Chi arriva all'ultimo di noi staff organizzatore paga. Siccome siamo oltre 50 giovani, mi metto anche io tra i giovani, che i giovani che veramente ci sostengono sono veramente tanti e ti danno qualche anno in meno. ti danno qualche anno in meno. Parte dalla mattina ben presto e direi, dirò, l'escursione è sempre molto frequentata perché fa conoscere tutte le viuzze e le storicità della nostra bella cittadina. Dopodiché si continua, si va dallo sport in villetta tra basket, yoga e quant'altro, fino ad arrivare a chiusura della mattinata. Quest'anno inauguriamo, come già c'è a San Giovanni, il Nodo di Galattica, che è un programma, un avviso regionale che permetterà ai giovani di poter usufruire degli spazi attraverso uno spazio co-working, attraverso uno spazio di web radio, attraverso la musicoterapia e un centro risorse per i giovani, con l'orientamento giovanile. Inauguriamo il 14, abbiamo messo insieme questi due strumenti che sono fondamentalmente di accoglienza e di apertura alla cittadinanza, in particolare ai giovani. Continuiamo con l'aperitivo musicale che ormai è classico, quindi dalle 12 e mezza in poi ci sarà Lazzaro che è un cantautore di Vico del Gargano. Giochiamo in casa. Assolutamente, è un bellissimo giovane cantautore musica pop italiana e inaugurerà musicalmente questa quindicesima edizione. Con l'aperitivo finisce la giornata ma si riprende immediatamente 3 e mezza con i laboratori. Le scuole aperte ci hanno dato la possibilità di ospitare dei laboratori che vanno dal riciclo creativo ai burattini fatti di carta, alla danza creativa, alle degustazioni di vino con un esperto enologo, quindi ce n'è per tutti i gusti, dal bambino piccolissimo dei 3-5 anni a quelli più grandicelli all'adulto, perché anche l'adulto deve tornare bambino, o meglio, senza tornare, prendere in sé quella parte di bambino e farla uscire fuori. Alle 6, alle 18, c'è il talk culturale che ogni anno promuoviamo, che ricorre poi il tema scelto, che magari quindi diciamo dopo. Finito il talk, inizia tutto nell'area concerto. Dalle 7 e mezza c'è l'apertura con la nostra arci radioattiva, con dei ragazzi che metteranno musica, presentazioni e via dicendo. E dalle 9 e mezza in poi inizia il concertone. Concertone con due artisti, dicevamo, del luogo, Lazzaro e Chi Cremlino, che sono rispettivamente di Vico del Gargano e di Cagnano Varano. Noi da sempre andiamo alla ricerca di giovani, o meno giovani, ma che sviluppano poesia attraverso la musica, quindi il cantautorato. E non ci sono stati pochi artisti che sono venuti da noi e poi sono andati l'anno dopo a Sanremo. Vuole essere fortuna, coincidenza, vuole essere... non lo so. È successo più volte. Chiuderà Shade, che è un rapper torinese di 37 anni, un rapper che racconta storie estive, ma molto pulito nel suo linguaggio. È un giovane intraprendente, giovane, meno giovane degli altri giovani, ma che è un vero artista. Oltre ad essere rapper, è un doppiatore, scrive canzoni per tanti, non ultimo è me contro te, che forse molte famiglie conoscono o disperano. Però, insomma, per dire che un artista poliedrico è uno studioso della musica e delle parole. Il tutto, ovviamente, corredato e circondato da buon cibo, da pesce, carne, pizza... E bisogna accontentare assolutamente lo stomaco. Sicuramente avrò dimenticato qualcosa nelle 24 ore di manifestazione. Esatto, di manifestazione, ma tanto comunque c'è il programma sulla pagina Facebook di Chiuffa Notte e Chiuffa Forte, ma poi chi abita in zona sa dove andare a cercare il programma. E se magari qualcuno si trova in zona inimitrofe, in villeggiatura e vuole trascorrere una serata diversa, San Marquillamis, quindicesima edizione di questo festival. Mi parlavi del talk, di questo momento di confronto che ha come tema la pace quest'anno. Pace e partecipazione. Il tema della maglietta è proprio questo. Come dire, abbiamo scelto un tema banale, sì, perché in questo periodo si parla tanto di pace. E abbiamo volutamente scelto un tema banale. Per un motivo semplice, perché è diventato talmente banale che facciamo solo un pur parler, senza poi dover discernere e condividere veramente che cosa significa. Tanto che abbiamo scelto di parlare della pace dal punto di vista della guerra. Cioè ci racconteranno sia Domenico Rizzi dell'Arci Provinciale e membro dell'Arc, ONG, che una ragazza della Nigeria, fuggita dalla guerra, dal punto di vista loro. Perché, come dire, non per semplificare, ma in un paese dove si vive la pace come il nostro, per fortuna, difficilmente si capisce a fondo che significa vivere in guerra. E inondati tutti i giorni la notizia della guerra, come se passasse in secondo piano. È come se un amico dice all'altro amico, ma non ti preoccupare tanto poi fino alla fine passerà. Non è così. E quindi bisogna veramente essere consapevoli che significa vivere in un paese dove c'è la guerra tutti i giorni. Solo lì forse capiremo la bellezza di vivere nella pace. La pace si faccia verso la partecipazione. E il simbolo vuole essere questo. Dentro ci sono il nostro grande web designer, si è divertito all'interno, ci sono i simboli degli uccelli in volo, della luna, di una donna che guarda lontano. E quindi ha creativamente composto con un simbolo riconosciuto a livello universale. E io colgo l'occasione per portare in dono a Teneradio Padre Pio la maglia di Chiuffanotte. La regalo a te come rappresentante femminile. Credo che vada a me. Ed è femminile, l'abbiamo scelta apposta. Ti ringrazio, bellissima. Guarda, eccola qui. E' femminile. Ah, eccola qui la nostra regia di Luigi Martino. Questo è il logo. Davanti cambia sempre, dietro è sempre il simbolo registrato di Chiuffanotte e Chiuffaforte. Beh, guarda, sicuramente, visto che è il 15, abbiamo un giorno di festivo, di riposo. Allora, con molta probabilità, verremo a San Marco. Ci sono veramente tante persone che vengono a San Marco. L'anno scorso sono state contate circa 15.000 persone. Consideriamo che San Marco di residenti ce ne ha 13.500. E siccome non tutti escono, perché è ovvio, i residenti di San Marco, arrivare a 15.000 presenze, beh, insomma, è un grosso risultato. E' un gran risultato. Tant'è che si deve ringraziare tutti della collaborazione, no? Forze dell'Ordine, ci stanno veramente supportando, amministrazione, associazioni, da soli, non dicevamo, partecipazione. Non si fanno questi eventi da soli. L'Arci è sicuramente il promotore, l'organizzatore, ma intorno c'è una capita di regia, non indifferente. Se posso, navetta a Borgocerano. Borgocerano. Per chi ha difficoltà, perché c'è ovviamente un grande caos di traffico, per chi vuole, presso il parco dei dinosauri, dalle 8 di sera, disponibile alla vetta, lasci la macchina a Borgocerano, c'è la ditta che sta lì, che anche fa guardiania, ti porta a San Marco, ti riprende e fa il tragitto San Marco-Borgocerano fino alle 4 del mattino. Benissimo. Questo anche a beneficio dei più giovani che magari faranno le 4. Noi non lo so se resistiamo, però, allora, Ludovico, resta con noi. Ti chiedo disponibilità, so che le ultime ore sono quelle molto più impegnative, però resta con noi perché ho un paio di domande ancora da porti sulla partecipazione, perché a proposito di partecipazione hai anche curato un momento molto forte di partecipazione e di condivisione a San Giovanni Rotondo. Mandiamo subito in pubblicità e poi ancora insieme. Ospite dei nostri studi questa mattina, Ludovico delle Vergini, quindicesima edizione dell'attesissimo festival a San Marco e l'Amis, chi fa notte chi fa forte. Abbiamo avuto modo di condividere insieme, perché c'è stata una grande partecipazione anche di cittadini san giovannesi. Ludovico, un incontro promosso, organizzato, grazie anche all'importanza di un'associazione che è Libera e il coordinamento provinciale di Foggia. Abbiamo avuto l'onore di avere a San Giovanni Rotondo Don Luigi Ciotti, che appunto è fondatore di Libera. Tu prima parlavi di giovani che partecipano a questo festival, anche come volontari vi danno una grande mano. Vogliamo ascoltare un passaggio di un'intervista a Don Luigi Ciotti e poi magari la commentiamo insieme. Io posso dire rispetto al paese che è l'Italia, no? Questo territorio siete voi, che avete il polso, conoscete i volti, le storie. Io devo dire dove si lavorano in un certo modo, dove si offrono spazio, opportunità, cose molto concrete, molto concrete, i giovani ci sono. E tocca a noi, e tocca anche alla politica, da parte sua, a fare le politiche. Perché questo è il rischio di una società che si preoccupa di giovani e poi non se ne occupa. I giovani bisogna offrire delle opportunità, degli spazi, dei riferimenti. Dobbiamo favorire il loro protagonismo, la loro partecipazione. E dobbiamo soprattutto ascoltare, ascoltare quelle che sono poi le loro domande, i loro dubbi, i loro interrogativi. Io questa mattina Fano, sepolto, ho celebrato la funzione per una ragazzina di 17 anni, fortemente impegnata. In un anno un cancro, quello per sempre, che in un anno se l'ha portata via. In quella chiesa Fano, questa mattina, a salutare Sofia, ho visto il dolore. Ma sono arrivati una marea di ragazzi della sua età, dei suoi compagni. Ci sono adorati tutti, centinaia, centinaia. I ragazzi nostri hanno delle sensibilità. Tocca a noi valorizzarli, riconoscere, sostenere. Ecco, loro sono una società che non si preoccupi, dei giovani se ne occupi un po' di più. La politica faccia le politiche, perché se la politica non fa le politiche, non è politica. Quello è il suo compito. Politiche per il bene comune, anche politiche per i giovani. Perché questa è una società negante per i giovani. Perché è tutto precario, non c'è una visione, non ci sono delle perspettive certe. Abbiamo bisogno di dare delle risposte concrete. Ludovico, Don Luigi Ciotti è stato a San Giovanni Rotondo l'8 agosto scorso, in occasione il 9 agosto poi dell'uccisione delle due vittime innocenti, fratelli Luciani a San Marco Illamis. Parole forti, Don Luigi Ciotti non le ha mandate a dire. La società deve occuparsi dei giovani, non preoccuparsi. Quando parla Don Luigi, noi di Libra lo sentiamo spesso, ma non stanca mai. E cogliere nel discorso più generale che fa poi affonda, affonda dentro la problematica. Ed è proprio quello, veramente la svolta e la partecipazione, cioè la consapevolezza per prendere poi l'impegno. Perché se il giovane lo prendo come un problema, mi dovrò preoccupare di come risolvere il problema. E già a livello di fonica, di linguaggio non va bene. Ha un problema, risolvo un problema, che probabilmente ho costruito io adulto. Se lo guardo come strumento, forse mi occupo del giovane. Forse valorizzo, come dice Don Luigi, le potenzialità che sono assolutamente fisiologiche a tutti. Non c'è la persona che non ce l'ha, dove può solo dare lo spazio. E lo spazio si dà con la partecipazione attiva. Non c'è altro modo. Cioè, la soluzione non è, ti do lo spazio, ho vedi telato, vedi, ti ho trovato lo spazio. Quindi lo spazio per i giovani c'è. Non funziona così. Funziona così. E la partecipazione è di tutti che dà forza a quello spazio. Poi lo spazio è necessario, va bene. Ma il giovane non va, non è lo spazio, non è la tachipirina di quando fa male la testa. Lo spazio è ok, tolgo un po' il sintomo. Bene, ora come si costruisce insieme una società civile libera dalla cultura della mafiosità? Con la partecipazione, consapevolezza e impegno. Questo con Don Luigi Ciotti è stato il primo di una serie di incontri dedicati proprio alla partecipazione, alla consapevolezza, che in qualche modo, al quale avete dato il via. Stai parlando di qui, di San Giovanni? Sì, sì. La San Giovanni è il primo. E devo dire, e io però dicevo anche a Tony l'altra volta, non avevo dubbi che San Giovanni avrebbe risposto. San Giovanni è pronta. Mancano dei pezzi, delle sinapsi da mettere, da attivare, per far sì che la società civile entri in contatto tra loro. Ha risposto bene, c'era tanta tanta gente di varia età, conformazione, associazioni, liberi cittadini e quant'altro. Quindi io sono convinto che sarà il primo di una lunga serie. Abbiamo detto quel giorno, quel giorno non ci siamo posti in obiettivo di sottoscrivere un patto quel giorno. Il patto è uno strumento che arriva dopo un percorso di consapevolezza. Quindi nulla di scritto, conosciamoci, parliamo, analizziamo il territorio, capiamo le risorse che ci sono. Di lì poi, insieme, dal basso, si decide il percorso da voler affrontare e l'obiettivo a cui tendere. Ce ne saranno altri di incontri di questo tenore. Benissimo, poi naturalmente avremo modo di tenersi. Se volete vi informeremo assolutamente. Assolutamente sì, faremo da cassa di risonanza. Allora, grazie a Ludovico delle Vergini per essere stato con noi. Grazie davvero di cuore. Appuntamento dunque domani a San Marco in Lamis con un festival che davvero coinvolgerà tutti, dai più piccoli ai più grandi. Intanto, a proposito di utilità sociale, c'è un numero, che è il 1520, della Croce Rossa italiana, che si occupa di ricevere 7 giorni su 7, 24 ore su 24, le richieste di persone che hanno necessità. Soprattutto in questo periodo estivo, persone anziane che magari non abitano in case con l'aria condizionata, quindi hanno bisogno di un maggiore sostegno e appoggio. Ascoltiamo le parole dei volontari della Croce Rossa italiana. Le ondate di calore sono un fenomeno estremo che si sta ripetendo da diversi anni. Il 22 luglio di quest'anno è stato il giorno più caldo mai registrato a livello planetario. Per questo dobbiamo ormai prepararci ad affrontare queste emergenze con degli accorgimenti che possano preservare la nostra salute. La crisi climatica è alimentata proprio dal suo riscaldamento globale e noi dobbiamo farne fronte come qualcosa che è già presente nelle nostre vite. È importante, prima di tutto, avere coscienza dell'arrivo dell'ondata di calore, quindi andare a vedere quelli che sono i bollettini del Ministero della Salute che ci preparano con un anticipo di 24-48, in alcuni casi anche 72 ore, dall'insorgenza di questi fenomeni estremi. È molto importante sapere quando questi fenomeni arrivano perché gli impatti maggiori sulla salute dei vulnerabili avvengono nei primi momenti dell'insorgere delle ondate di calore e poi a lungo protrarsi dello stesso. Quindi dobbiamo adattare i nostri stili di vita, i nostri comportamenti di ogni giorno alle temperature estreme che ci saranno al di fuori delle nostre abitazioni. All'interno delle nostre abitazioni dobbiamo proteggerci, refrigerandole il più possibile, a compartimenti stagna. Quindi andiamo a refrigerare, a climatizzare singole stanze e poi chiudendo le porte, in maniera tale anche da favorire un risparmio energetico. Quando ci mettiamo in marcia, per esempio per i viaggi, facciamolo calcolando quelli che sono i tempi di percorrenza, valutando le orari migliori in cui mettersi in marcia, quelli più freschi. Per chi invece trasporta dei farmaci, tantissimi di noi li usano, facciamolo in appositi contenitori, ma in a tale che il farmaco rimanga refrigerato. Attenzione soprattutto ai più fragili, che sono i primi a subire gli effetti negativi del caldo. Per qualsiasi informazione, emergenza o necessità, vi invitiamo a contattare la nostra centrale di risposta nazionale al 1520, che è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Anche d'estate la centrale di risposta della Croce Rossa italiana è operativa H24 tutti i giorni, per dare supporto e assistenza alle richieste delle persone che telefonano al numero di pubblico utilità 1520. Le richieste che vengono fatte, che vengono portate alla centrale di risposta nazionale, sono di diverso tipo, sono richieste di supporto sociale, sono richieste di compagnia, sono richieste di supporto psicologico e a tutte queste richieste si cerca di dare una risposta quanto più efficace possibile, sia direttamente dagli operatori e dalle operatrici presenti nella sala, sia creando un collegamento con i comitati territoriali. Tra le varie richieste c'è per esempio quella di Francesca, una signora di 82 anni che ha chiamato disperata perché il suo appartamento era troppo caldo e vista la sua età e visto il suo stato faceva difficoltà a sentirsi serena e a essere in un ambiente salubre. La centrale di risposta nazionale ha messo in contatto Francesca con il comitato territoriale e i volontari di Croce Rossa sono andati da Francesca e hanno dato supporto, hanno dato assistenza e continueranno a farlo per tutta questa settimana garantendole un luogo più salubre e anche la compagnia dei volontari stessi. Quella di Francesca è una delle circa 160 telefonate, delle 160 richieste che giornalmente in questo periodo arrivano alla centrale di risposta nazionale. Gli operatori della centrale e i comitati territoriali coinvolti ogni giorno cercano di dare risposta a queste esigenze.